La Regione Campania è impegnata a risolvere la questione disinquinamento del bacino idrografico del Sarno. Lo ha ribadito il Vice Presidente della Giunta Regionale, Fulvio Bonavitacola, a margine della conferenza stampa della Gori. Si tratta, ha spiegato, di un piano integrale di non semplice soluzione che rischia di fallire non solo per la burocrazia, come è successo per la gara d'appalto per il collettore fognario di Nocera Inferiore, ma anche perché basta poco per inquinare una rete idrografica vasta. La notizia è di un evento che avvia delle opere molto attese da questa comunità, che dimostra una positiva collaborazione istituzionale della Regione, dell'amministrazione comunale, del soggetto gestore che è la Gori, dell'Ende Idrico Campano. È un tassello di un progetto più generale che riguarda il risinamento del bacino idrografico del fiume Sarno e che ha un effetto importante sulle economie di questo territorio. Un mare pulito significa attività ittica, balneazione, turismo, ricettività. Quindi in questo caso ambiente e sviluppo non sono alternativi, ma sono assolutamente collegati. Noi intendiamo andare avanti lungo questa strada in modo determinato per avere il collettamento di tutti i reflui al depuratore di Foce Sarno. Quando ho parlato di bacino idrografico mi riferisco a quest'area vasta che comprende una serie di affluenti del fiume principale che sono sicuramente la Cavaiola, la Solofrana, l'attività, ho fatto un superluco proprio nei giorni scorsi, l'attività di risanamento è un'attività integrata. Non si può risanare il mare se non viene risanato il fiume e non vengono risanati i suoi affluenti. Per questo bisogna collettare i reflui presso il depuratore e non verso i colpi idrici. Altrimenti ci ritroviamo non al depuratore di Foce Sarno ma alla Foce del Sarno.